Ah, che bella cursa, però mi sento fresco come una rosa, capirai? Scarpe Antonini. Presto Enrico, siamo in ritardo. Volo, una doccia e sono pronto. Ma come, vieni così? Non vedi, ci sto così comodo che mi sto dimenticato di cambiarmeli. Sempre Antonini, eh? Calzature Antonini. Tante occasioni con un solo tipo. Oppure, se volete, un tipo per ogni occasione. Antonini. Ai piedi, mi chiedi presto. Lo dico Antonini, eh? Grazie.